Ma ma questo è perché voglio stare con te, perché ti amo, perché non voglio perderti, perché questo inverno ho sentito molto la mancanza della tua bellezza, hai capito? Sono molto contenta, amore mio, perché sto per tornare in Brasile e vorrei sapere se verresti con me. Ecco... Nicolas, Nicolas, ascoltami, Nicolas, Nicolas, stammi a sentire, per favore, Flor, non parte, i bambini non se ne vanno, ci saranno alla nostra festa. E che è proprio ora? Che è successo? Non so se è vero, ma sembra che Flor abbia litigato con Segundo, ma non è certo. Come sarebbe hanno litigato? No, voglio parlare con Segundo. No, Olivia, sono adulti, non ti mischiare. Però mi piaceva Segundo con Flor. Certo, anche a me piaceva Segundo, però era una pazzia che facessero quel viaggio. Bene, rimettiamoci a lavorare. Ma perché hanno litigato? Come mai? Tu me lo sai spiegare. Franco, ho parlato con Martin e mi ha detto che è stato uno sbaglio, solo un grande sbaglio. Sì, Maria, per favore, non cominciare, va bene? Ma è la verità, perché dovrei mentirti? Perché? Perché hai paura che io protegga mio fratello e ti lasci? Ma cosa ti inventi? Sei un immaturo. Eh, senti, vado a riparare il lavandino, eh? Poi me ne vado a casa. Mi dovete credere, noi donne abbiamo sviluppato un sesto senso. So quello che dico. Flor era strana, o sbaglio? Per una volta ha ragione, eh? Martin, stai pensando quello che penso io? No, anzi, dipende, sì. Franco, non possiamo arrivare! Sì, sì, già lo so, e sono felice, felicissimo. Dobbiamo fare una festa, eh? Con i vostri compagni di scuola. Certo, ovvio. Sì, sì. Andate su. Ciao, che bello! Dobbiamo parlare, Martin. Sì, sì, anch'io desidero parlarti, però fa parlare me per primo. Ecco, ricordi che ti ho detto che c'era qualcosa tra Maria e me? Sì, sì, ecco, è proprio di questo che volevo parlare. No, no, però ascoltami, ascoltami per primo, eh. Ecco, io ho capito la situazione. Sì? Sì, sì, perché dopo analisi su analisi, ho capito che Maria non è altro che un altro desiderio, come succede a tutti i ragazzi della mia età, capisci cosa intendo? Certo, mi piace, però tutto qui, come qualunque ragazza, nient'altro. Sul serio? Sì. Malala, donna infedele, perfida e malvagia, dove sei? Allora sono brava, mi muovo bene. Cosa si dice? Brava, brava, molto bene. Porta più veloce di più ancora. Così, brava. Ancora di più, di più. No, no, ti prego, Malala, non infangare la nostra unione con questa stupida follia. Non le sopporto più. Cos'è stato? Era trocule. Ah, come mi sento stanca, ma è stato magnifico. Com'era? Onda, onda, buona onda, ciù ciù, onda, onda, buona onda. Che bella invenzione, la capoeira, una meraviglia. Mamma, Gilberto, che state facendo? Cara mia, se tu lo lasci tutto solo soletto, qualcuno dovrà prendersi cura di questo ben giovanoso. Malala, ti sei divertita, eh? Ah, sì, si vede, si vede molto bene. Mi lascia stare. Ma che cosa vuoi, moccioso? Impara da un vero ballerino. Bene, basta, non litigate, dobbiamo dirvi una cosa importante. Sì, serio? Anche noi due, Gilbertini ed io, è chiaro? Allora cominciate voi per primi. No, no, cominciate voi due. No, perché la nostra è molto più importante. Parlate voi per primi. Ma è lo stesso, parla. Ora basta, ve lo dico io. La notizia è... Basta! Andiamo in Brasile! Ti auguro di essere felice, tuora. Segundo! 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 Fermati, ti prego! Segundo! Segundo! Ti prego, non andare! Non te ne andare! Ti prego! Non te ne andare! Sei l'ultima speranza che mi resta. Aspetti, si fermi! Sì! Dimmi, gran sogno Amare forza Tu, la princesa, la más hermosa, tu, caballero, de mis deseos, príncipe azul, mi amor eterno. Llevame lejos, como en un cuento, llévame lejos, hasta tu reino. Perdi mi vida, mi alma, mi confianza, tu me pagaste con monera falsa, perdí mi piel, mis noches de locura, perdí mi tiempo, no me quedan dudas. Andai, dile a tu cariño, que no es bienvenido en este corazón.